Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti, più di tutti! Bentornati su Gioviac and Spoh, io sono Giovi Spoh e questo è l'ultimo episodio della serie scontro tra titani in stagione numero 2. In questa serie avete visto il titano Achillefeb mettersi in gioco per riuscire a essere uno dei migliori portieri tra me, Giovi Spoh e FIFA Cardoforte in Italia, soprannominato il Gufo. Nello scorso episodio avevo chiesto di cercare tra Agbawa e un altro, avete scelto Agbawa naturalmente perché ho visto che ha una buona forza visca e anche un'ottima velocità per essere un terzino argento. e dunque questa è la squadra finale di questa serie, ma non vi preoccupate perché ci sarà un sequel, ci sarà la stagione 3 e avremo dei titani particolari, saranno Toz, questo è sicuro, e saranno degli attaccanti. quindi restate qui perché abbiamo già fatto le regole e nel prossimo, nella prossima stagione di sforzo tra titani saprete di chi si tratta. E dunque ora aspetto l'invito del Gufo a Toz per disputare lo scontro finale di questa seconda stagione fatta in compagnia di FIFA Cardoforte in Italia, soprannominato da me il Gufo, abbiamo questo 4-4-2 con Traore, Movsisian If, Tosic If, Whitzel, Costa, Maicon, Cricito, Antonio Ferreira, Garai, Tiff o non mi ricordo, Agbawa è il titano di questa serie, Akimfer, Toz, ebbene, vediamo come sarà questa finale, Obinna, lo scatto, Obinna, 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 vai Obinna, Obinna, il tiro di Obinna, Akimfer la para, una prima parata di Akimfer, però c'è ancora l'azione in attacco per Obinna che la dà, Karlstrom, il tiro di Karlstrom, fuori, fuori Malebichons, attenzione a Movsisian, ma che cosa fai, perché l'è passata così, poteva centrarsi, tirare, no, preferito un passaggio nell'area di vigore, corner andrà a costa, l'ha battuto, no, 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 non mi piace, l'ho detto che non mi piace, porca troio, si vedeva, era un gol scriptato, da cosa si vedeva che sono rimasti tutti e due giocatori fermi, sono rimasti fermi, attenzione a Toshish sulla fascia al mezzo per Traoré, di nuovo, di nuovo Traoré, maledetto questo Traoré, ma che ho, sta cazzo di testa che si ritrova, oltre due metri, 44 gatti, Maicon, vede Rondon, vai Rondon, tira Rondon, e ti, oh ma vaffanculo, muoviti sto minchione, anche vado Rondon, vai, e vai, oh Rondon, ma vaffanculo Rondon, ma che cazzo fai, eh sì, ma poi io non ci devi incazzare, scusa, ma è normale, vai Sissè, vai Sissè, vai Rondon, col di merda, e mi piace, mi piace così, vaffanculo, di cazzo, vede Sissè, vede Sissè, non è fuori gioco, Sissè, il 3D, Sissè, e c'è il pareggio, 71esimo minuto fa me, tu ci brilli, Sissè, e va fa un bagno, andiamo a fare un bagno, dai Kaiser, Franz, 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 ma no, vaffanbagno, no, non mi piace, surprise mother fucker, ma c'è tra un re, maledetto, Tommy Huffo che ha solo colpi di testa, ha fatto solo colpi di testa, solo cross, solo cazzo di calci d'angolo, vaffanculo sti colpi di testa di merda, super, stra, mega, incazzati di merda baggato, capito? vai Obinna, tiro Obinna, chi cazzo sta? vai 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 vai, sì, sì, che su che onda di destra, che su che onda, di mancino, scusate, a giro, mamma mia, pareggio, partita, emozionantissima, emozionante, come cazzo si dice, di nuovo un colpo di testa maledetto, mamma mia, ma quanto ti fa venire nervoso, ste cose di merda, con sti cazzo di colpi di testa, ti fa venire un nervoso, con sti cazzo di colpi di testa, mamma mia, oh, sono cross, i colpi di testa di continuo, ma che cazzo fai, sì, sé, ma che cazzo fai, sì, sé, e ma vaffanculo, ma come cazzo si fa a perdere per quattro colpi di testa, come cazzo si fa, come cazzo è sto gioco di merda, che ogni cross che fai per un giocatore che è alto un metro e novanta, la prende sempre di testa, sempre di testa, ma che cazzo di gioco è, mamma mia, scrivo un messaggio, mi devo dire, fai schifo, fai schifo, ma io devo scrivere un messaggio, ma io devo proprio scrivere, muoviti qua, che schifo, proprio, è uno schifo, è uno schifo, vediamo un po' di statistiche, vediamo, mamma mia, che schifo, oh, che schifo, è stato più preciso nei tiri, è vero, ha fatto sei tiri in porta, sette tiri normali, però, cazzo, però, mamma, un'altra cosa che dà più passillo è subire solo gol di testa, solo, vediamo che ha scritto, è un bufo, è un bufo, e dai, è un bufo, beh, vabbè, dai, scusate se mi sono arrabbiato anche oggi, ma questo gioco fa venire certi nervi a fior di pelle, comunque, se vi è piaciuto l'episodio finale, lasciate un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, qui è JoviSpot, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con la nuova stagione, ciao e alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.